Salve e ben trovati al consueto appuntamento con i mercati, l'ultimo per questa settimana. Quella andata in scena oggi è stata una seduta piuttosto tranquilla, nonostante l'uscita negli Stati Uniti del dato sull'inflazione che ha mostrato un rallentamento. Il Fuzzimib per esempio ha chiuso con un più 0,26% ma di fatto nel corso della giornata non ha mai raggiunto il mezzo punto a conferma della timidezza della seduta odierna. La variazione percentuale è pressoché identica a quella del DAX, indice che presenta anche un quadro grafico simile a quello appena visto. Pochi fuochi d'artificio anche a Wall Street, sia il Nasdaq che il Dow Jones infatti sono sopra la parità ma non di moltissimo. Questo clima di incertezza si riflette quindi anche sul Fuzzimib. Basti vedere come il miglior titolo in assoluto Banco BPM abbia in realtà una variazione che si spinge poco sopra il più 1, seguito da Monte dei Impaschi e da Mediobanca che il punto non riesce invece a raggiungerlo. Cambiando comparto Dia Sorin continua la sua risalita dopo il tonfo di una settimana fa, così come continua a recuperare anche Snam. Così come avviene per i migliori titoli, anche i peggiori mostrano percentuali moderate. Al primo posto c'è Amplifon che si limita per così dire a un meno 0,88. Seguono Ferrari, Iveco, Moncler e Inuit, tutti a breve distanza dal mezzo punto percentuale. Sul Forex Euro-Dollaro si mantiene stabile appena sopra 1,10 nonostante il calo delle ultime ore. Euro-Sterlina invece si è sempre mantenuto in territorio negativo con qualche decimo di punto percentuale di ribasso. Segno contrario per Euro-Yen che guadagna terreno riavvicinandosi a quota 157. Chiudiamo con l'analisi del trader Filippo Giannini. Salve a tutti ospite delle interviste di Traderlink di oggi Filippo Giannini di tradingfacile.eu. Daremo uno sguardo insieme a lui all'S&P 500. A te la parola. Sì, ciao Rossana e bentrovata. Sì, mercato americano per quanto riguarda appunto l'azionario che continua a mostrarsi forte e quindi anche dopo le scadenze tecniche trimestrali dei contratti future opzioni non abbiamo per ora visto un sell-off particolarmente marcato soltanto appunto nella giornata del del 20 eh di dicembre abbiamo visto diciamo un sell-off anche abbastanza eh fisiologico perché comunque il mercato era andato a ritestare eh i precedenti massimi storici tuttavia nella giornata di ieri il mercato ha comunque provato a recuperare anche sulla scia eh dei dati che sono arrivati a livello macro che mostrano comunque eh un'economia americana ancora forte. Ieri c'erano i dati eh sulle richieste dei sussidi di disoccupazione che sono stati quindi sotto le attese e quindi che dimostrano come eh appunto lo scenario di questo soft landing da parte della Fed possa essere ancora quello più atteso. Quindi anche oggi il mercato sta eh cercando di recuperare ulteriormente e quindi qui eh occhio perché se eh dovessimo appunto eh tornare sopra quota quattromila e ottocento punti e quel punto qui il mercato vedete che completerebbe un eh modello appunto di eh accumulazione rialzista e quindi secondo me ci sarebbe spazio per tornare ad attaccare i precedenti massimi storici. Eh viceversa però attenzione perché eh il mercato rimane comunque eh tirato siamo ripeto vicini ai massimi storici e quindi qui qual è il livello da attenzionare lato ribasso è questo quattromila e settecentoquaranta punti sia perché dal punto di vista grafico vediamo che il mercato sta affrontando una configurazione di tipo broadening e quindi diciamo questa fase di lateralità poi potrebbe diciamo anche risolversi con un breakout di questi minimi occhio perché sotto quota quattromila e settecento eh quaranta abbiamo un buco a livello eh volumetrico e attenzione perché eh sotto quota quattromila e settecentoquaranta eh le vendite potrebbero anche essere eh diciamo marcate abbiamo un eh livello di resistenza minore a quattromila e settecento dieci però ritengo che in caso appunto di sell off potremmo tranquillamente vedere il mercato andare a testare quota quattromila e seicentocinquanta punti. Perfetto Filippo io ti ringrazio per tutte le indicazioni con te vi mando l'appuntamento alla prossima volta. Grazie a te Rossana arrivederci a tutti. Abbiamo terminato ci ritroveremo mercoledì ventisette dicembre insieme alla riapertura di Piazza Affari dalle festività. Un saluto e un augurio di buone feste. Arrivederci.